Più fonda alla Sanità del Sud, il nuovo Fondo Sanitario Nazionale, FSN, per il 2023, la cui ripartizione è stata deliberata ieri dal CIPES, Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile, ha infatti spostato 220 milioni di euro delle regioni del centro-nord al meridione in virtù dei nuovi criteri di riparto utilizzati quest'anno per la prima volta. Un passo importante lo definiscono dal Ministero della Salute, mentre resta acceso il dibattito relativo alla rimodulazione del PNRR che, secondo la Fondazione Gimbe, ha portato al taglio di 500 strutture territoriali e case di comunità. Ad illustrare il FSN 2023 sono stati il Sottosegretario della Salute, Marcello Giammato, ed il Sottosegretario di Stato con delega al CIPES Alessandro Morelli, al termine della riunione del Comitato, il fondo ammonta a 128 milioni di euro al netto della somma di 864 milioni destinata al Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese per l'acquisto di farmaci innovativi. E per il 2024 al Sistema Sanitario Nazionale andranno ulteriori 5,1 miliardi di euro. Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, ha detto Giammato, ha registrato un progressivo aumento passando dai 107 miliardi del 2013 ai quasi 129 miliardi del 2023, maggiore di 3 miliardi di euro rispetto al 2022. Ma la novità è che questo è il primo anno in cui vengono applicati i nuovi criteri di riparto approvati nel dicembre 2022 dalle regioni. I nuovi criteri tengono conto, oltre che della popolazione residente, anche del tasso di mortalità della popolazione Andres 75 e di altri indicatori come l'incidenza della povertà relativa, individuale, il livello di bassa scolarizzazione e il tasso di disoccupazione. In particolare, i 220 milioni, ha spiegato Giammato, saranno suddivisi tra otto regioni, Abruzzo, Molise, Campagna, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, e un risultato importante. Tra le voci finanziate con il FSN, una delle missioni salute del PNRR richiesta dal governo e approvata nei giorni scorsi dalla Commissione europea, la nuova versione, commenta in Gimbe, taglia rispetto alla formulazione originaria 479 strutture territoriali, così divise 312 case di comunità, 120 centrali operative territoriali, 47 ospedali di comunità, si rinunce inoltre a 25 interventi di antisismica, un intervento inevitabile per l'aumento dei costi di realizzazione di opere preventivate in era pre-pandemica e antecedenti alla crisi energetica.